Buonasera a tutti e benvenuti ad una night session settimanale su S&P 500 analizzato con l'Evoluta, un metodo statistico-matematico che porta a determinati risultati. A che punto siamo arrivati? Della discesa che segnalavo che poteva arrivare purtroppo dopo la chiusura dell'inverso. Siamo arrivati al fatto che qui abbiamo un vantaggio competitivo rispetto a chi non utilizza l'Evoluta, micidiale. Perché? Perché invece che andare a fare un Golden Cross e provare a rimbalzare, abbiamo iniziato a sprofondare. E questo era già nei conti, in quello che vi avevo raccontato che poteva succedere, per tanti motivi. Quindi può essere stato acutizzato da ciò che ha detto Powell, ma nella realtà dei fatti noi non eravamo long. Perché? Prima di tutto sapevamo che da questo massimo stava partendo un mensile inverso. Adesso abbiamo più che la conferma, sia in termini di swing che in termini di tempo, perché abbiamo oltre 6 barre sotto questo massimo. E quindi tutto corretto. Le notizie servono temporaneamente, eventualmente, ad acuire in un senso o nell'altro ciò che comunque noi segnalavamo già da tempo prima, non dopo. D'accordo? Questa è una cosa estremamente interessante. Adesso, come detto, abbiamo un vantaggio fantastico. Ovvero, da domani in avanti, anzi scusate, da lunedì in avanti, perché oggi non è domenica, ogni tentativo di rimbalzo noi potremmo, raccordi a parte, valutare di shortarlo. Soprattutto se non si salirà mai sopra la media mobile a 50 periodi. Per cui, fatto un primo T-3, fatto un secondo T-3, superato lo swing per la partenza di un T settimanale e rimasti sopra oltre 48 barre, 24 più 24, rispetto a questo minimo, Noi continuiamo ad aspettarci che cosa? Rimbalzo del gatto morto, discesa. Rimbalzo del gatto morto e continuamente discesa. Continuamente la possibilità di continuare a raggiungere nuovi minimi, aggiornare nuovi minimi. Per cui, non soltanto sappiamo quale può essere la direzione corretta, le operazioni che seguono il tren, che possono essere corrette, Ma noi, oltretutto, con l'evoluta, abbiamo anche un'altra cosa importante, abbiamo il tempo. Noi sappiamo che, dato che abbiamo fatto soltanto 2T-3, come minimo si continuerà a provare ad aggiornare i minimi fino al sesto T-3, ovvero la sesta candela giornaliera, o si arriverà anche a 7, 8, 9, 10 e al massimo 11. Questo non è un vantaggio da poco, perché chi non riesce a avere questo conteggio corretto del tempo, è, ragazzi, è messo abbastanza male, sinceramente, perché non sa per quanto tempo può aspettarsi una cosa, o magari prova un long, che se si rivelerà come d'attese un rimbalzo del gatto morto, poi pagherà amaramente andando in stop loss. Qui tutto torna, sì, abbiamo fatto 6T-3 inversi, abbiamo fatto 6 candele, abbiamo avuto la condizione necessaria e sufficiente per la chiusura del primo settimanale, e abbiamo serenamente iniziato più che il secondo. Tra l'altro, vi ho fatto notare, già prima di avere 6 candele, che noi non avevamo soltanto un T più 1 di inverso che poteva partire, ma già un mensile inverso, o in realtà già qualche cosa di più. Quindi tutto secondo i piani, tutto secondo ciò che era stato già detto nelle precedenti analisi. Andiamo a vederlo a livello di giornaliero? Ok, avevamo segnalato che dovevamo andare in chiusura del secondo ciclo mensile T più 2, e quindi anche del T più 3 che era iniziato dal minimo del 17 di giugno, e il secondo T meno 3, partito esattamente quando ho segnalato, è arrivato soltanto a 23 barre, per cui come minimo ce ne serve una. Il target naturale minimo da raggiungere per la chiusura del T più 2 a questo punto diventa i 3.969, ovvero livello dato dalla media mobile a 50 periodi in rosso, piuttosto che successivamente anche i 3.910, dato dal livello inferiore, anzi scusate, superiore dell'acumo, che qui però si assottiglia molto e quindi è molto penetrabile. Peraltro, ribadisco, da qui sta partendo soltanto un mensile inverso, perché noi abbiamo evidenze di altro a questo punto. primo T più 3 inverso, secondo T più 3 inverso, che in realtà è arrivato a 96 barre, quindi questo è un T più 4 inverso, e poi che cosa parte? Perché noi siamo rimasti a 163 barre sotto questo minimo, che ci dice appunto che con un T più 4 inverso partito almeno è iniziato un biennale d'inverso che proverà a spingere il più possibile verso il basso e per ora ha continuato ad aggiornare i minimi e quindi la sua forza ce l'ha. Per quanto riguarda invece il lato indice, sappiamo che siamo arrivati appunto a primo mensile, primo T più 2, rialzista benissimo, secondo T più 2, vi avevo dato anche lo swing con il quale avremmo avuto la possibilità di sapere quando partiva un annuale, questo è superato, quindi da qui è partito un annuale, ma rischiamo anche ancora per poco tempo il raccordo, e siamo già a 49 barre, ovvero abbiamo superato la durata del T più 2, siamo a un T più 3 rialzista, un T più 3 rialzista lancia un T più 5, ovvero un annuale ciclico, bisognerà vedere se sarà rialzista o un po' paura, neutro o ribassista, perché come sapete sono gli swing a dirci poi che cosa succederà. Adesso ci attendiamo ancora a chiusura appunto del nostro primo T più 3, tra un T più 3 e un T più 3 ci può essere un settimanale di raccordo, quindi questo non può essere per adesso considerato come raccordo, e oltretutto dobbiamo andare a chiudere oltre le 24 barre, quindi abbiamo tempo fino alla 43esima barra giornaliera, ovvero abbiamo 20 giorni per andare a chiudere non soltanto appunto il secondo mensile, ma anche tutto il T più 3, ovvero il ciclo trimestrale partito da un minimo che ha fatto un massimo e che adesso sta andando verso la media mobile a 50 periodi, piuttosto che come detto verso questo target. Abbiamo un forte quindi vantaggio competitivo rispetto a chiunque altro? Sì, perché con l'evoluta sappiamo che almeno per altri 3 giorni minimo dovremmo andare a cercare un minimo pari o inferiore a questo, anche se partiamo a un rimbalzo per far partire un secondo T meno 1, e poi ritorneremo naturalmente sotto questo minimo a 4057 punti, ma come detto si potrà raggiungere naturalmente i 3971 piuttosto che i 3907. E attenzione, perché se tirate un Fibonacci vedete altre cose interessanti. Da qui come detto può essere partito ben più di un mensile inverso che si aggrega agli altri, vi ho dato target, vi ho detto che questo è già un T settimanale rimbalzista, sapete che cosa fare da lunedì in avanti, ovvero shortare i top anche in caso di rimbalzi interessanti, perché qui può aver chiuso il primo T meno 2, ovvero il primo ciclo a due giorni, primo giorno, al secondo giorno e siamo tanto indietro ancora per la chiusura di un settimanale che chiuderà anche il trimestrale. Direi che ne non c'è molto altro da dirvi, target dati, tempo, target in termini di tempo preciso dati, vedremo se come di consueto le analisi saranno corrette come su Bitcoin, Tax e Fuzzimib. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida serata. Arrivederci!